Rosolini, la droga nel forno a legna, armi e munizioni sotterrate nella proprietà, arrestato, pregiudicato, 47 anni. Graviniere della sezione operativa della compagnia di Noto unitamente a quelle della stazione di Rosolini hanno arrestato un pregiudicato di 47 anni del luogo per detenzione illegale di sostanze stupefacenti e armi. A seguito di perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto all'interno di un forno a legna circa 450 grammi di sostanze stupefacenti, parte già confezionata in dose e due di hashish spontaneamente consegnata che è stata sequestrata così come un calciolo di fucile tagliato sotterrato nel giardino e 32 cartucce calibro 12 occultati in un pozzetto di plastica scavato nelle adiecenze della proprietà. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa.